Un detenuto polacco che la questura di Napoli definisce pericoloso e evaso ieri dal carcere di Poggio Reale lenzuola annodate per scavalcare il muro di cinta mentre si recava nella chiesa del penitenziario per la messa. Le modalità di fuga hanno creato scalpore. I sindacati della polizia penitenziaria in queste ore rilanciano l'accusa per la cronica carenza di uomini e mezzi che avrebbe inciso in una fuga che non si vedeva da un secolo a Poggio Reale. Le forze dell'ordine hanno diramato le foto segnaletiche di Robert Lisowski, questo è il nome del detenuto alto 180 cm circa, di corporatura magra, carnagione chiara e capelli cortissimi, castano chiaro. L'identikit è stato diffuso per consentire a chiunque lo avvistasse di fornire indicazioni utili alle forze dell'ordine che continuano le ricerche. Lisowski era stato arrestato a dicembre del 2018 nei quartieri spagnoli a Napoli per l'omicidio di un cittadino ucraino di 36 anni, tra l'altro suo amico al termine di una lite in un locale frequentato prevalentemente da cittadini dell'est Europa. Anche in Irpinia polizie e carabinieri sono in allerta per la ricerca con posti di blocco e pattugliamenti.